Buongiorno, vi voglio spiegare un strumento potente che abbiamo inserito in Iceberg e che è la misura della pendenza delle curve di volatilità. In base alla pendenza delle curve di volatilità, cioè i valori espressi, i prezzi sostanzialmente, che incorporano le aspettative del market maker, noi riusciamo ad individuare dei forecars, cioè delle previsioni future. Vi faccio una breve panoramica di come vengono costruiti questi SMI e in modo che poi possiamo capire esattamente, quando entriamo nel software, i valori. Vi voglio far vedere un fatto che è accaduto, quindi quello che ho registrato dalle 12 e un quarto di oggi e eventualmente dovesse cambiare il trend, vi farò poi vedere eventualmente una fotografia che ho fatto, un'immagine relativa al momento di quando ho fatto la campionatura. Allora, vediamo un attimo come vengono costruiti sostanzialmente gli SMILE di volatilità. Intanto la parola SMILE è la parola SKU rappresenta più o meno la stessa cosa, solo che lo SMILE è leggermente, è una figura convessa, mentre lo SKU è una figura che vedremo rettilinea. Allora, prendiamo due assi, guardate devo disegnare a mano libera con questo strumento, quindi non verrà certamente dei disegni, dei che riusciamo a capirci. Allora, già intanto andrà dritto qua, un problema. Allora, in questo asse segneremo i prezzi, in questo asse invece da questa parte segneremo gli strike, quindi per dare l'idea della, quindi partiamo dagli strike ATM magari qua, quindi questo è uno strike 10, poi andremo verso gli strike più alti da questa parte e più bassi da questa parte. Quindi adesso immaginate qualsiasi strumento con tutti gli strike qua in mezzo, quindi il DAX avrebbe quindi 9.900, il nostro FIB con 18.000, quindi 18.000 di qua, 20.000 di qua e 7.000 di qua. Fiat, che ne so, 7 è qui, l'11 di qua e il 5 di qua, da questa parte. Allora, per ogni strike che noi andiamo a vedere su una determinata scadenza, quindi ogni strike per ogni scadenza, noi avremo un prezzo. Questo prezzo lo smembriamo, quindi facciamo il verso engineering e troviamo un valore di volatilità, un valore di volatilità che lo esprimiamo su questo asse. Quindi supponiamo che siamo andati a leggere il prezzo dello strike 9, abbiamo estrapolato una volatilità che aveva questo valore qui, supponiamo che questo qui sia un valore, diciamo 20 come valore, benissimo, allora noi andiamo avanti, portiamo alla nostra linea 20 e la incrociamo con il 9. Poi siamo andati a campionare lo strike numero 10 e abbiamo rilevato una volatilità magari più bassa, supponiamo 14-15 volatilità, facendo delle ipotesi, ma solo per farvi vedere come viene costruito poi la figura che poi andremo a vedere. Poi nello strike 11 supponiamo invece di avere trovato una volatilità magari più alta ancora, quindi da qua arriviamo, è difficilissimo andare dritto, e incrociamo sostanzialmente questi valori, quindi questo valore abbiamo rilevato su quello strike, questo è l'altro valore che abbiamo rilevato sull'altro strike e questo è l'altro valore che abbiamo rilevato sull'altro strike. Quindi sostanzialmente noi abbiamo dei punti distanziati tra di loro che corrispondono alla volatilità che si legge su questo asse, sull'asse di sinistra, e è riferita allo strike che si riferisce invece su questo, si riferisce su questo asse. Congiungendo gli strike, vediamo se riesco a cambiare colore, ok, congiungendo tutti i punti noi cosa troviamo? Troviamo sostanzialmente una figura fatta così. Questa figura fatta così si chiama smile, è uno smile di volatilità. In questo caso ho fatto uno smile che non ha una pendenza sostanzialmente, è panciuto, vedete le estremità sono equivalenti e quindi se ne va in questo modo. La realtà invece che ci troviamo di fronte è questa. Rifacciamo di nuovo il disegno. Allora noi abbiamo di nuovo i nostri due assi, quindi non ripeto di nuovo, qui ci sono gli strike, qua c'è di nuovo la volatilità. Sostanzialmente noi abbiamo gli strike che si posizionano più o meno con queste, sto esagerando di nuovo, si posizionano in questo modo qua. Qui abbiamo campionato diversi strike, qui abbiamo, ripeto, qui abbiamo la volatilità e qua abbiamo il valore, qua sotto troveremo il valore di questo strike e lo stesso abbiamo fatto per tutti gli altri. Con le put per il momento non ha non ha importanza. A questo punto se io collego questi valori ottengo di nuovo un'altra linea. Vedete? Allora la linea che avevamo ottenuto prima era un po' panciuta, era così e quindi questo è uno smile. La linea che abbiamo adesso è più dritta, è così e quindi si chiama skew. In entrambi i casi però, sia sullo smile che sullo skew, si individua con delle formule che non sto a spiegarvi, si individua la pendenza, la pendenza della curva. La pendenza è questa, questa è la pendenza e in tutte le quotazioni delle opzioni noi abbiamo una pendenza che è negativa. Perché negativa? Perché i prezzi sono, come abbiamo visto, sono disposti in questo modo, sono alti da questa parte e quindi se di qua abbiamo il valore 11, di qua abbiamo il valore 9. Quindi vuol dire che nei prezzi più bassi, quindi il market maker ha un po' più di paura, tra virgolette, nelle discese e quindi metterà un prezzo più alto, quindi ci troviamo un prezzo più alto. E la salita che è più lenta, questo è il motivo più tecnico, è più lenta, quindi c'è più tempo, quindi avrà una volatilità, quindi un rischio minore, un rischio inferiore. E quindi ecco perché noi abbiamo una pendenza, questa pendenza, che è sempre negativa. D'accordo? Allora noi facciamo, sostanzialmente abbiamo trovato questa cosa, cioè vi ho spiegato questa cosa, che abbiamo dei punti che sono gli strike, che sono alzati o abbassati a secondo della volatilità che hanno, la volatilità è parte integrante del prezzo, quindi rappresenta l'aspettativa del market maker e unendoli noi abbiamo quello che si chiama o smile o studio di volatilità. La pendenza di questa curva è sempre negativa. Allora il fatto che sia sempre negativa non ci preoccupa, perché non vuol dire che pendenza è negativa, vuol dire che il mercato è negativo o non sarebbe così. Quindi per costruzione, e come vi ho spiegato prima, per il motivo della discesa più veloce rispetto alla salita, la pendenza è sempre negativa. Allora noi dobbiamo fare, e lo vedremo poi di là, due campionature, cioè sostanzialmente dobbiamo campionare una, decidere, io campiono questa curva, questo schiù di volatilità, non volevo usare termini inglesi, ma poi alla fine la non l'abbiamo inventato noi, quindi abituiamoci anche un po'. Quindi voglio paragonare questa skewness, cioè questa inclinazione dello schiù, che si chiama skewness, appunto, la voglio paragonare da adesso in avanti. Quindi io dirò al software, in questo momento al disegno, dico va bene, campiono questo momento. Quindi questa curva gialla, io do una data, che sono le 14.52.00, quello che è, insomma, come, 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 come orario. Questa avrà una pendenza, una pendenza che le vediamo già che è negativa, ma come valore, come potrà essere? E il valore sarà dato dal numero che c'è qua, supponiamo che qui ci fosse stato un 10 di volatilità, e questo qui che è più basso, diciamo che ha una volatilità che è pari a 5. Quindi possiamo dire che questa, semieretta, questa, questo, ha una pendenza di 10 meno 5, meno 5, quindi la differenza è 10 meno 5, quindi questo è un valore puro pulito meno 5. Quindi quando noi ritroveremo poi sul software questi valori, sappiamo che il valore è negativo ed è dato dato da la differenza dello strike qua in alto con la differenza dello strike qua in basso, cioè della volatilità espressa sui due strike. Va bene? Quindi 10 c'è la su quello in alto, 5 è su quello basso, la differenza fra i due strike mi dà meno 5. Quindi io posso dire che la curva gialla ha una pendenza di meno 5. D'accordo? Per evitare equivoci, se questo fosse 6, fosse stato 6, ecco qua, quindi 10 meno 6 e avrei come pendenza meno 4. D'accordo? Quindi questa curva ha una pendenza di meno 4, perché qui leggo 10, qui leggo 6, quindi la pendenza di meno 4. Bene, ci siamo? Quindi questa la prendiamo come campione. Poi vediamo come. Qui faccio la mia campionatura e poi lascio correre i dati in tempo reale. Si sommaranno, quindi verranno delle altre quotazioni, quindi verranno degli altri prezzi. Questo prezzo potrebbe cambiare, quindi potrebbe arrivare qua. Faccio dell'ipotesi, signori. Quest'altro potrebbe, che ne so io, arrivare qua. Quest'altro potrebbe arrivare qui. Quest'altro potrebbe essere superiore. Quest'altro ancora di più. E quest'altro ancora di più. Allora io vedo che se traccio una linea che collega quest'altra, questa nuova skew, io vedo che lei ha sicuramente una pendenza inferiore a quella precedente, perché questo è un valore 10, quindi questo sarà un valore più basso, quindi supponiamo che possa essere, che ne so, 8, tanto per dare dei numeri. D'accordo? Scusate il disegno, ma poi ho fatto un manuale. Questo è 8. Questo potrebbe essere un 7 come valore, sempre per dare l'idea. Quindi la pendenza che io ho di questa linea nera è 8 meno 7, cioè ho meno 1. Quindi la pendenza della curva nera è meno 1. Allora se io ho fatto un campionamento, cioè ho fermato la linea gialla e la chiamo sample campione. Va bene? È il mio campione. E in tempo reale mi sta andando la linea nera e ho questo risultato, io avrò sostanzialmente nel monitor che vi farò vedere dopo su Iceberg una differenza fra le due curve che è data da meno 4, meno 1, quindi io ho una differenza che è di meno 3. Quindi sostanzialmente ho una salita, questa curva si è inclinata, la sua pendenza sostanzialmente è diventata più alta, cioè meno pendente, quindi si è alzata questa parte, si è abbassata un po' questa, quindi vuol dire che c'è meno rischio di discesa e tra virgolette più rischio di salita, oppure si sta apprezzando un trend laterale. Sostanzialmente quindi rimane negativa, perché è sempre negativa, però è meno negativa di prima, quindi ha recuperato, quindi dal mio sample, dalla mia campionatura che era quella gialla, io ho un recupero rispetto a quella nera, quindi vuol dire che da meno 4 sono passato a meno 1. Cosa vuol dire questa cosa se io la leggo in tempo reale? Vuol dire che il mercato ha finito di apprezzare una discesa del mercato e sta apprezzando un trend laterale sostanzialmente o di salita. Adesso qui bisogna prenderci poi un attimo la mano perché ogni sottostante ha la sua caratteristica che è leggermente differente una rispetto all'altra. Quindi questo è quello che noi vedremo in Iceberg, d'accordo? Vedremo quello che vi ho rappresentato nel disegno e lo vedremo nel filmato numero 2 che farò qui di seguito. Allora al prossimo filmato!